Ricordare Maurizio così è una cosa bellissima, lui ne sarà orgoglioso, io ne sono emozionatissima. È intitolata Maurizio Ponti, caporeparto prematuramente scomparso a pochi mesi dal pensionamento, la sedicesima edizione del campionato italiano di ciclocross organizzata dal comando dei vigili del fuoco di Arezzo. Maurizio, come ho detto, l'ho conosciuto, l'ho visto poche volte perché mi sono insediato a dicembre dell'anno scorso, però tutte le volte che lo vedevo metteva allegria al comando. Ponti è stato poi commemorato anche con la consegna di una targa a ricordo nelle mani della moglie. Che lo ricorda con le ali e la cosa mi emoziona tanto ma ne sono veramente felice e lui ne sarà orgoglioso. La manifestazione è in programma sabato 24 febbraio al Parco del Pionta e vedrà la partecipazione di ciclisti provenienti da 25 comandi di tutta Italia. Qua ad Arezzo abbiamo l'enorme fortuna, grazie alle capacità che in questi 60 anni il gruppo sportivo ha dimostrato, di avere appunto sportivi nei vigili del fuoco, non solo nella ginnastica ma anche nel ciclismo. Siamo appunto tra il comando che ha vinto nel 2023 il primo posto nel complesso delle prove e ha conquistato poi appunto l'onore di ospitare questo importantissimo evento che ha un importantissimo valore sportivo a livello nazionale che metterà in luce la città di Arezzo e il Parco del Pionta ma anche un importantissimo e forse l'aspetto principale, dicevo un importantissimo aspetto dal punto di vista sentimentale per il ricordo di Maurizio Ponti. Questo mi rende orgoglioso del fatto che i miei vigili si impegnano sia nell'attività sportiva quindi di corollario per quella che è l'operatività del comando che anche poi nelle attività istituzionali che servono a riportare la capacità operativa dei vigili ogni qualvolta poi è necessario.